Cristiano Andrea, due mesi e mezzo Sono delle Filippine e vorrei darti questo Ti ricordi questo? Ah un cerebro al palso Sì e volevo dirti che sta pregando per te e volevo chiedere un rosario per lui Mi viene? Sì, 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 per lui Ti ha dato una Madonna che ha fatto a piedi, col suo piedi e voleva assicurarti sempre della sua preghiera Questa è la sua lettera per te e poi l'ultima, volevamo chiederti la tua benedizione per Santa Filomena Le devozioni che vogliamo portare avanti Grazie Dai, questo è il ninho Grazie Un altro ninho Grazie 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 Grazie